Come è stato messo l'Europa? Sviluppo sostenibile al centro delle proprie politiche dei prossimi anni. Ecco dunque in conclusione perché studiare sviluppo sostenibile, approfondire i temi dello sviluppo sostenibile in modo integrato, come questa scuola consente, l'unico esempio in Italia e forse non solo, di approccio integrato è una grande opportunità. È un modo per capire che da soli un particolare problema, ma anche la complessità dei problemi non si riesce a risolverli. Serve l'integrazione di pensiero, serve l'integrazione delle politiche, serve l'integrazione delle diverse strategie aziendali. Di tutto questo tratteremo nel corso della scuola e naturalmente allargheremo la community che è già stata avviata l'anno scorso di innovatori per lo sviluppo sostenibile per cambiare il nostro paese e anche il mondo. Buon lavoro a tutti.